Pietro Mannoni, segretario provinciale del PD, allora siamo arrivati agli ultimi giorni, ormai quasi ore di campagna elettorale, un rush finale per questa corsa che è stata anche una corsa difficile e combattuta fin dall'inizio. Indubbiamente si è trattato di una campagna elettorale difficile, dura, combattuta, nella quale però a mio avviso Raffaella Paita e la coalizione di centrosinistra che la sostiene, la quale fa parte del PD, hanno spiegato con grande precisione quelle che sono le loro posizioni che riguardano la prosecuzione da un lato di una politica amministrativa che vede il coinvolgimento forte del territorio, perché comunque in questi anni di amministrazione burlando il territorio della provincia d'Imperia è stato curato con attenzione, non è stato dimenticato, questo lo sanno bene gli amministratori dei comuni che hanno trovato nella regione un interlocutore forte. E' stato curato perché, voglio fare un esempio particolare, la pista ciclabile che è stata al centro dell'attenzione con la partenza del Giro d'Italia, è stato un progetto che è stato fortemente voluto dalla giunta burlando. Questo meccanismo di attenzione che c'è stato con Raffaella Paita proseguirà, perché lei ha sempre avuto a cuore quelli che sono i destini del Ponente Ligure, e io sono sicuro che il Ponente Ligure le darà un forte sostegno in questi ultimi giorni di campagna elettorale e poi domenica con le elezioni regionali.